Il Stato di Sicurezza, lo dico in maniera chiara, le leggi vanno rispettate, piaccia o non piaccia, le leggi vanno rispettate, non voglio fare confusione, mi piacciono? No, non mi piace, questa è un'altra cosa, però rispetto, io ho il dovere di rispettare, non mi piacciono sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto della sicurezza. La sicurezza è una cosa importante, avremo 1200-1300 persone a Padova e provincia che non avranno dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi, cosa succederà? Aumenterà microcriminità, aumenterà prostituzione, spaccio, bisogna pensare a queste cose, sono cose molto importanti, domani vado a Lanci e farò valere queste ragioni, ma io ho bisogno di difendere Padova, Io lo sapete, non ho un partito politico, non faccio questioni politiche, a me interessa la città, cosa succede con 1200-1300 persone? No domani, entro maggio-giugno vuol dire questa cosa. Apprezzo che qualche ragione abbia fatto ricorso al consulta, però i risultati saranno dopo le elezioni europee, per cui, tanto vuol dire 4-5 mesi, sono tanti. Quindi va a Lanci per chiedere un intervento del Lanci, di alzare un po' la voce con il Ministro? Con il Premier Conte abbiamo avuto risultati importanti sul decreto per i FIE, proprio tramite il Premier, che ha mediato la nostra situazione, alla fine è stato di parola e si è comportato in maniera corretta nei nostri confronti. Spero che anche in questo caso dia la mano.